L'altro giorno quando mi hanno mandato la scaletta dei gantici, sbadatamente ho messo like senza guardare la scaletta dei gantici, perdonatemi. E poi quando stamattina presto verso le quattro cominciai a meditare, il Signore mi ha portato a delle scritture che poi erano tutti sui gantici, infatti metà del messaggio è stato già predicato. Apriamo le scritture in prima Corinzi, capitolo 15. Capitolo 15 del versetto 24 dice così Allora il figlio sarà anche egli sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa affinché Dio sia tutto in tutti. Andiamo a leggere Romani, Romani dal capitolo 16, dal versetto 20. Alleluia Romani capitolo 16, dal versetto 20 dice Ora il Dio della pace, notate la parola pace, schiaccerà presto Satana sotto i vostri piedi. Dice la persona accanto, che bene i piedi che hai. Per quale motivo lo dico? Perché la scrittura stessa dice quanto sono belli i piedi di coloro che annunciano la buona vavella, vero? Sono belli i piedi. Lunedì scorso, mentre insegnavo nella scuola biblica, ed è stata la prima volta che ho avuto questa illuminazione, che parte dell'armatura di Dio sono i calzari dell'Evangelo della pace. L'armatura ha da fare con l'evangelizzazione. Dice io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Quando si esce dal recinto, dove c'è una protezione particolare, ma Gesù stesso disse, come ho detto poco anzi, come agnelli, come pecore in mezzo ai lupi. Ovviamente se vai come una pecora in mezzo ai lupi dovresti magari temere qualcosa. Ma il Signore vuol farci comprendere che i piedi sono così importanti perché ogni... Infatti lo possiamo aprire la scrittura in Deuteronomio, capitolo 11, lo leggeremo insieme. Deuteronomio 11, versetto 22, dice poiché se osservate diligentemente tutti questi comandamenti che io vi ordino di mettere in pratica, amando l'Eterno il vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e tenendovi stretti a Lui. Quando si esce da una certa protezione, ci dobbiamo fidare di Dio che i Suoi angeli ci accompagnano. Cosa voglio dire quando usciamo da una certa protezione? Qui c'è una protezione particolare stamattina. Perché siamo tutti insieme. Ma una volta che si parte due da qui, due dall'altro lato, il Signore li mandava a due, abbiamo bisogno della protezione di Dio. Ma gli angeli sono con noi per accompagnarci ovunque andiamo. Siamo d'accordo? Qual è il pericolo? Il pericolo è che andando nel nome di Gesù, andando in territori sconosciuti, tanti dei nostri fratelli hanno perso la vita predicando il nome di Gesù. Anzi, Gesù stesso ha detto di Pietro, ora ti faccio vedere che tipo di morte, mi glorificherai con una certa morte. come Gesù, mi stai mandando a morire? Mi stai mandando a fare che cosa? Qualcuno poteva dire, ma Pietro non c'è andare, esattamente come abbiamo qualche altra volta parlato di Paolo. Quando Paolo è stato mandato, c'è stata quella parola da parte del profeta Agabo che dice, se la persona che va, che si mette questa cintura, andrà a Gerusalemme, la sarà arrestato e quant'altro, è tutto quello che gli succederà. Ma non era la chiamata di Dio sulla vita di Paolo quando disse ad Anania, vai e digli tutte le cose che dovrà soffrire per il mio nome. C'è una certa sofferenza, e non voglio soffermarmi sulla sofferenza, ma io voglio considerare quanta gloria c'è stata nella vita di Stefano quando lo stavano uccidendo, lapidando, e Stefano guardava e vedeva oltre tutto quello che vedevano gli altri. Vedeva i cieli aperti, vedeva Gesù alla destra del Padre, vedeva la gloria di Dio e diceva loro, Padre, perdona loro, non sanno quello che stanno facendo. Cioè Stefano vedeva qualcosa di straordinario ed è qualcosa che la Chiesa di oggi, nel futuro, andrà incontro a questo tipo di cosa. Vi amo così tanto da dichiararvi la verità. Perché, certo che possiamo dire, possiamo parlare di quanta gioia, gloria, tutte queste altre cose, ma gloria a Dio che ci sono. Queste sono le cose che viviamo dentro di noi che nessuno può scalfire, nessuno può toccare queste cose. Tu puoi fare male al mio corpo, ma non puoi fare male al mio spirito. Tu non puoi distogliermi dalle mie convinzioni che ho nel Signore Gesù Cristo. E la scrittura qui ci dice vi ordino di mettere in pratica amando l'Eterno il vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e tenendovi stretti a Lui. Dobbiamo imparare a come tenerci stretti a Gesù. No? Aspetta che lo ripeto. Dobbiamo imparare come rimanere o tenerci stretti a Gesù. L'Eterno, poi dice, versetto 23, l'Eterno scaccerà davanti a voi tutte quelle nazioni e voi vi impadronirete di nazioni più grandi e più potenti di voi. Ogni luogo, versetto 24, ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, cosa dice? Sarà vostro. I vostri confini si estenderanno dal deserto fino al Libano e dal fiume Eufrate fino al mare occidentale. Versetto 25, l'abbiamo anche cantato, nessuno sarà in grado di resistervi. Signore, aiutami stamattina. Nessuno sarà in grado di resistervi. Aspetta, lo ripeto perché ovviamente a Ruau Kama non sta arrivando dentro. Nessuno sarà in grado di resistervi. Abbiamo detto amenne perché vi ho prestato. Adesso diciamolo con convinzione. Nessuno potrà resistervi. Siete convinti? Allora diciamolo insieme. Nessuno potrà resisterci. Alleluia. Sì, è bello cantarlo. Che nessuno, nessun'arma fabbricata contro di noi potrà avere successo contro noi. E queste sono belle cose. Abbiamo imparato il gergo cristiano, i detti che magari ci accompagnano nella vita, ci incoraggiano in un momento dopo un momento. Ma, sai, la vera manifestazione di quello che c'è dentro un credente è nelle difficoltà. non siamo tanto aperti a voler ascoltare le verità in particolare le verità che la Chiesa dovrà affrontare cioè sono realtà complicate. e quando meditavo questa parola stamattina dicevo Signore quanto è meraviglioso quanto sono meravigliosi i piedi di coloro che evangelizzano quanti voi avete evangelizzato i vostri piedi sono benedetti ma non solo quando avete evangelizzato che cosa stava succedendo in quel momento stavate scacciando Satana sotto i vostri piedi quando si scaccia Satana Satana è schiacciato sotto i nostri piedi il regno di Dio avanza ripeto la nostra il nostro successo non dipende da quante anime vengono a lui quella è l'opera dello Spirito Santo il nostro compito è come quello di Ezechiele Ezechiele ha predicato per una quarantina d'anni e nessuno gli ha dato ascolto e nessuno si è convertito poi il Signore dice fagli vedere esattamente quello che penso di loro voglio che ti corichi da un lato per 390 giorni e appena finiscono questi 390 giorni voglio che ti giri dall'altro lato e rimani coricato per altri 40 giorni sull'altro lato e lo stesso non ti ascolteranno e lo stesso quando predicherai non sentiranno e lo stesso accadrà dice non solo ma questi hanno la faccia di prepotenti questi non ti vogliono dare ascolto dice ma io faccio la tua faccia ancora più dura della loro forse la Chiesa ha bisogno ne facciamo a faccia che cade per il vicino di casa a faccia che cade per la soggera a faccia che cade per qualsiasi datore di lavoro combattiamo per stupidaggini e abbiamo questa questa intenzione di non mollare mai ma vincere avere l'ultima ma quando si tratta di fare il volere di Dio fuori siamo tutti rimugati siamo quante persone sono venute alla prima evangelizzazione c'erano almeno 200 persone c'erano la seconda volta ce n'erano quanto 130 140 l'ultima volta ce ne sono stati 80 90 la prossima volta anche hanno solo io e il pastore Davide sarà con me almeno mi posso si inizia nello spirito e si finisce nella carne forse ancora non abbiamo afferrato il concetto che la battaglia spirituale è collegata con l'evangelizzazione perché pensiamo che l'evangelizzazione sia solo un parlare del Signore a qualcuno mentre non comprendiamo che stiamo entrando in un territorio dove dobbiamo mettere Satana sotto i nostri piedi quanti hanno capito questo concetto stiamo trattando nella scuola biblica lunedì sera la battaglia spirituale conquistare territori già sono due mesi che ne parliamo di questa di questa realtà ma per quale motivo non è che abbiamo spade in mano oppure abbiamo scudi in mano oppure abbiamo delle armi in mano che dobbiamo andare a combattere qualche combattimento particolare ma è perché quando noi entriamo in un campo minato del nemico dove il nemico ci vede entrare a testa alta e convinti di quello che stiamo per dire e stiamo per dichiarare ha un problema tutto ad un tratto c'è una battaglia non è un semplice dichiarare io dichiaro il nome di Gesù è meraviglioso sulla tua vita sulla tua casa gloria a Dio su questo ma poi se c'è un territorio da conquistare fratelli c'è bisogno di guarda uno ne mette in fuga quanti? mille due ne mette in fuga e tre ne mette in fuga centomila matemata centomila quattro ma vedi la moltiplicazione come sale di numero abbiamo bisogno di tutti quando quando ci muoviamo ed entriamo in un campo per evangelizzare una zona quanto più possibile ci dovrebbero essere tutti tutti dovrebbero essere presenti non per fare numero ma perché c'è un motivo particolare e questo non l'abbiamo capito e stamattina ho detto signore ma noi sabato sera saremo lì vedete questa macchinetta che era per dichiarare la macchinetta non so e noi sabato sera saremo lì ma in quanti saremo il numero fa la forza non dire ci sono lauce il numero fa la forza uno mille due diecimila trecentomila vedi come vedi il numero come campo dobbiamo avere una una chiara visione della missione perché non stiamo facendo lo stesso la stessa celebrazione o culto come viene chiamato da molti non stiamo facendo questo culto qua e lo stiamo facendo da un'altra parte noi investiamo soldi per andare da quelle parti e non pochi ogni volta che ci spostiamo ma gloria a Dio che ci provvede e non abbiamo bisogno del tuo applauso quando rientriamo abbiamo bisogno che tu si presente e mentre si predica e mentre si loda e mentre si bombarda il cielo il popolo di Dio è pronto a dire sì signore puoi contare su di me io voglio fare la differenza insieme a questi miei fratelli c'era un motivo perché Paolo chiamava compagni d'opera e compagni di lotta e molti sono solo compagni di lotta ma dove sono i compagni di lotta dove sono quelli che scendono nel campo per combattere accanto a te non è un rimprovero questo è un'esortazione ad entrare nel campo di Dio e questa evangelizzazione devo velocizzare ma quanto sono aspetta aspetta andiamo andiamo in Isaia capitolo 52 capitolo 52 e qui è il Signore che parla il Signore che parla e parla al suo popolo qui e dice capitolo 52 versetto 1 dice risvegliati dice alla persona accanto risvegliati diglielo di nuovo risvegliati rivestiti della tua forza o Sion indossa le tue splendide vesti o Gerusalemme città santa noi siamo parte della Gerusalemme di Dio sta parlando a noi e il popolo così abituato a stare lontano nelle sue facendo i propri affari non si cura dell'avanzamento del regno di Dio ma noi e io in questa casa e tutti i conduttori qui dentro noi vogliamo che questa casa sicuri dell'avanzamento del regno di Dio e metta le mani all'aratro non voltandosi indietro e dichiarando noi vinceremo perché il satana deve avere timore e poiché non entreranno più in te l'incirconciso e l'impuro perdonatemi sto parlando se parlerò in maniera molto schietta la mia preghiera è questa signore gli impuri e l'impuri sono i non convertiti ma quante persone ci sono nella casa del signore che ancora sono impuri lo so non è il messaggio che ti sprona a venire la prossima settimana ma l'esercito di Dio è un esercito particolare noi non scherziamo con il mandato di Dio e io vi dico non si scherza con il mandato di Dio è una missione l'evangelizzazione non è solo raccontare a qualcuno una favola noi stiamo raccontando una verità che ha trasformato il mondo intero una verità che ha cambiato e spero che abbia già cambiato la tua vita la mia vita sì il nome di Gesù saliamo sui monti sulle vette infatti lo volevo fare alla fine questo mi avete preceduto ma questo per dirvi che la missione esige la nostra attenzione a 360 gradi dice la persona accanto rivestiti rivestiti della tua forza cioè alzati destati risvegliati è tempo di mettere le mani a questo aratro fino al ritorno di Gesù Cristo e c'era anche un problema nel profeta Geo che profetizzava e l'abbiamo letto diverse volte il profeta Geo che incitava il popolo a lavorare forza siete così preoccupati per le vostre case ma il Signore dice guarda la mia casa guarda in che condizione è la mia casa vi preoccupate delle vostre case ma guarda la mia casa qual è più importante per te la tua casa o la casa di Dio io non sto dicendo che abbiamo bisogno di pitturare le mura io sto dicendo qui che abbiamo bisogno di entrare nel proposito nel progetto di Dio con entrambi i piedi e dare la giusta importanza all'opera di Dio alleluia versetto 2 dice scuotiti di dosso la polvere c'è la persona accanto scuotiti di dosso la polvere alleluia ma che vuol dire vuol dire che sei seduto una cosa che deve essere spolverata è una cosa che non abita e non si muove sicuramente se vengo a casa tua troverò tante cose con la polvere spero di non trovare polvere sulla Bibbia spero di non trovare polvere sulle tue ginocchia scuotiti di dosso la polvere levati e mettiti a sedere cioè perché stai coricato come quelli che dormono il Signore dice è tempo di svegliarsi di testarsi c'è un'opera da compiere mettiti a sedere o Gerusalemme sciogliti le catene dal collo o figlia di Sion che sei in cattività quanti noi vogliamo liberazione vogliamo liberazione certo che vogliamo liberazione liberaci dalle bollette liberaci dalla pressione liberaci da questo tipo di lavoro liberami da questo capo questo datore di lavoro liberami ma quante cose abbiamo bisogno di liberazione noi sai che cosa tu hai bisogno di liberazione tu hai bisogno di liberazione da te stesso perché da me stesso io ho bisogno di liberazione perché io sono il mio peggiore nemico sono io stesso con le mie decisioni a vincolare la mia vita a mettere delle catene sulle mie come si chiama lupiste pols sì grazie sono io stesso a farlo e il signore vuole mettermi in libertà il momento in cui le priorità nella mia vita cominciano a cambiare tutto ad un tratto le cose cominciano a inquadrare per la nostra vita dice poiché così dice l'eterno voi siete stati venduti per nulla e sarete riscattati senza denaro questa è l'opera che Dio desidera fare dentro ciascuno di noi poiché così dice il signore l'eterno il mio popolo discese anticamente in Egitto per dimorarvi poi l'assiro lo oppresse senza motivo e ora che cosa faccio io qui dice l'eterno mentre il mio popolo è stato portato via per nulla quelli che lo dominano lo fanno gemere dice l'eterno e il mio nome è continuamente bestemmiato tutto il giorno dicendo guardate i figli di Dio guardate in che condizioni sono i figli di Dio ma non ci colpa a Dio che siamo in certe condizioni della nostra vita sono state le nostre scelte perciò il mio popolo conoscerà il mio nome il mio popolo dice la persona accanto dice bisogna conoscere il suo nome e tu sai che si chiama Gesù ma conosci quel nome conosci la potenza di quel nome conosci le virtù di quel nome conosci l'eccellenza di quel nome che cosa conosci di quel nome che cosa conosce centro cristiano di Messina che cosa conosci centro cristiano di Messina del nome di Gesù si lo cantiamo la domenica lo predichiamo dal pulpito il nome di Gesù il nome di Gesù ma poi alla fine per te che cosa significa il nome di Gesù per me che cosa significa il nome di Gesù che cosa significa per quest'opera il nome di Gesù quanti noi lo dichiariamo salvatore tu sei il nostro salvatore sei il nostro guaritore abbiamo cantato tu sei il nostro salvatore tu sei il nostro liberatore grazie signore perché tu ci rendi liberi ma possiamo continuare a rimanere schiavi di noi stessi schiavi dei nostri pensieri per quanto tempo ancora rimarremo schiavi quando il Signore ci sta dicendo ma la fate una decisione una volta e per sempre dice alla persona accanto se sarà importante se sarà importante il futuro deve essere importante oggi la decisione che facciamo oggi implica il nostro futuro tutto quello che facciamo oggi determina dove saremo nel futuro per questo la scrittura ci dice oggi non ci dice domani ci dice oggi è il giorno della salvezza perciò il mio popolo conoscerà il mio nome perciò comprenderà in quel giorno che sono io che ho parlato eccomi versetto 7 quanti sono belli quanti sono belli piedi no cosa dice ah sui monti quanti sono belli sui monti i piedi perché sui monti perché i monti parlano di regno e il monte dell'eterno si ergerà al di sopra di tutti gli altri monti due volte profetizzato il monte dell'eterno cioè il regno di Dio si ergerà al di sopra degli altri regni e nota che i piedi sono belli quando si va a calcare territori che Satana di cui Satana si è impadronito e presto metteremo cosa Dio metterà Dio della pace metterà che cosa sotto i nostri piedi ogni volta che evangelizziamo stiamo entrando in un altro campo stiamo dicendo Satana siamo pronti per dichiarare la parola del Signore e tu in questo momento sei sotto i nostri piedi e da qui e da qui tu rimarrai sconfitto in questo territorio una volta e per sempre perché Satana non deve solo mettersi da parte quando arriva la Chiesa si andava quando Gesù entrava in un territorio cosa dicevano questi demoni non mandarci nel deserto non volevano andarci dove non c'era gente vogliono stare dove c'è gente così possono tormentare la gente opprimere la gente e noi quando entriamo in un territorio siamo agenti di un cambiamento per quel territorio perché stiamo portando la parola del Signore e forse la religione o la religiosità ha così ignorato questa parte o non ha compreso questa parte della missione dell'evangelizzazione e per questo sono entrati in territori e vi devo dire sinceramente alcuni ci pensare a peggio perché non avevano aiuto perché erano da soli non sai quanti missionari sono partiti dagli Stati Uniti andando in nazioni diverse e sono ritornate come dei cani con la coda in mezzo alle gambe tra virgolette scusate per quale motivo perché non c'era nessuno che li accompagnava c'era un motivo per cui Gesù li mandava due a due e non a uno a uno capiamo questa cosa ma guarda quanti siamo siamo più di due siamo più di tre più di cinque dieci cinquanta siamo molto di più la differenza è che bisogna prendere la cosa a cuore intenderla e mettere le mani all'arrato dice quanti sono belli sui monti quando il mio popolo coloro che annunciano la buona novella quanti sono quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone novelle che annunzia la pace che rega ricordatevi i calzari della pace che annunzia la pace che rega belle notizie di cose buone quando noi andiamo non andiamo a regare cose negative stiamo portando cosa acqua agli assedati stiamo portando pane a chi è affamato stiamo portando una copertura una parola di incoraggiamento a qualcuno una copertura per coloro che sono senza detto che spiritualmente non sono coperti e stiamo dicendo qui nella casa del gran re c'è posto anche per voi se avete fame c'è una mensa molto gloriosa che il signore ha preparato per la vostra vita c'è dell'acqua che disseta c'è dell'acqua che dà vita il Gesù e noi parliamo di Gesù parliamo della sua risurrezione parliamo di lui e del suo regno parliamo di lui perché è lui che fa la differenza nelle vite delle persone non la chiesa centro cristiano di Messina non se ne fanno nulla con il centro cristiano di Messina ma se presentiamo un Gesù Cristo crocifisso potenza di Dio risorto che è alla destra del padre è lui che darà vita a questi morti che rega belle notizie di cose buone che annuncia la salvezza che dice a Sion il tuo Dio regna gloria a Dio i piedi i piedi sono così importanti noi inizieremo a pregare da domani alle 6 del mattino quando Mosè raggiunse il rovedo ardente il Signore gli ha detto che cosa togliti i calzari dai piedi perché i tuoi piedi devono toccare la mia santità è un luogo santo i tuoi piedi devono toccare la santità devono toccare la mia presenza devono toccare questo luogo prima che Mosè fu mandato in Egitto per liberare il popolo di Dio il Signore gli ha detto togli i calzari dai piedi ma prima di mandarlo gli disse vieni il Signore ci invita a venire alla sua presenza alla sua presenza cresce l'unzione di stare con Lui questo non è per dire che magari chi abita lontano non può venire ma dalle 6 alle 8 ritaglia un po' di tempo piega le tue ginocchia davanti al Signore e prega prega che cosa o favori no ordiniamo ordiniamo che il regno di Dio venga non pregheremo Signore intervieni no noi pregheremo preghiere che cambiano l'atmosfera che cambiano l'ambiente spirituale di dove stiamo andando alleluia ci stiamo radunando è una sala da ballo santificheremo quel luogo per il Signore non è una visita io sto pregando che quando entriamo in quel luogo già il figlio del padrone ha detto che verrà dice fammi sapere io voglio venire sto pregando che gli altri membri della famiglia vengono pure si chiama Cannavo che ti posso dire ma entrando in quel luogo noi vogliamo portare la presenza di Gesù Cristo vogliamo portare la sua presenza i nostri piedi toccheranno quel territorio toccheranno quel territorio per portare pace a quel territorio saremo non so come si chiama quel locale come si chiama so che siamo sopra Granatari so questo ma non importa qual è il locale dove saremo non importa la cosa principale è che quando entreremo in quel luogo per adorare Dio ogni demone deve fuggire perché la chiesa viene per lodare e adorare il nostro Signore Gesù Cristo fratelli siamo una squadra non ci stiamo muovendo va bene vai tu poi io prego che Dio metta nel vostro cuore di essere presente perché non è una cantata e una sunata è una battaglia spirituale per liberare l'ambiente in cui stiamo entrando perché vogliamo che le anime in quel territorio diano il proprio cuore a Gesù Cristo ci siamo alziamoci in piedi alleluia e nulla potrà resistervi tu l'hai detto Signore non l'ho detto io l'hai detto tu e noi crediamo a quello che tu ci dici nella tua parola tu hai detto presto Satana sarà schiacciato sotto i vostri piedi e noi ci crediamo e noi stiamo andando in quel luogo Signore affinché Satana sia schiacciato sotto i nostri piedi e tu ci hai detto ovunque noi metteremo la pianta del nostro piede ovunque il nostro piede calcherà tu ci darai quel territorio noi dichiariamo che il maligno sarà spodestato in quel territorio noi non siamo di coloro che si tirano indietro non nemmeno sentiamo di prendere alla leggera questa missione perché la facciamo per Gesù Cristo il nostro Signore Salvatore Gesù venga il tuo regno venga il tuo regno e la tua volontà sia fatta lì a Granatario dove si trova quel locale Signore che la famiglia Cannavo sia convertito nel nome di Gesù sia convertito padre madre figli Signore che ci sia un movimento particolare su quel territorio nel nome di Gesù e tutti i fratelli sei fratelli cinque sei fratelli del Signor Cannavo che siano convertiti a Gesù Cristo che tutto quel territorio si pieghi al nome di Gesù Cristo Signore per fede lo dichiariamo e ce lo aspettiamo nel nome di Gesù Signore benedici il tuo popolo benedici questi soldati benedici questi uomini e queste donne che hanno il cuore tuo per vedere l'avanzamento del tuo regno Signore grazie l'Eterno vi benedica e vi custodisca l'Eterno faccia risplendere su di voi il suo volto e vi dia pace quella pace da condividere con il mondo grazie Padre Amen Amen Dio vi benedica Grazie Grazie Grazie